Amici dell'Orientirin, con l'arrivo della primavera, è tempo di tornare a correre. Siamo a Montecatini per la prima tappa del Mocca. Qui dove l'acqua è buona, la location fantastica, i campioni ci sono, non resta altro che vivere questa interessantissima giornata di Mocca. Grazie a tutti. Ma dove vai? Quello lì non sa niente di Orientirin, andiamo a sentire i vincitori di oggi. Una grande gara qui a Montecatini. Questa è stata una buona gara oggi, è piaciuto essere qui, con i buoni bambini e il buon sole. E' piaciuto essere qui, è piaciuto essere qui, è piaciuto essere qui. Questa è stata una buona gara, con l'arrivo di Orientirino oggi. Questa è stata una buona competizione. Questa è una buona competizione. da Pietro Larietti e questo nuovo amico orientista, a voi la linea.